Nei giorni scorsi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dichiarato che la crisi è quasi finita. Sarà probabilmente così, ma a giudicare dall'aumento dei poveri nella ricca Milano è impossibile non avere qualche fondata perplessità. Dal 2008 alla fine del 2014, infatti, l'incremento dei poveri costretti a rivolgersi ai centri d'ascolto è stato superiore al 25%. Ma non solo, se fino a pochi anni fa gli italiani in difficoltà erano attorno al 25%, ora la percentuale è superiore al 30%, ovvero quasi un italiano su tre. Una realtà confermata anche dai responsabili di una delle mense milanesi più conosciute e frequentate dagli indigenti, e cioè l'Opera San Francesco per i poveri. Il servizio della Mensa ha registrato nel 2014 dati certi che abbiamo un aumento sensibile dovuto soprattutto alle nuove povertà, alle nuove emergenze che la città di Milano ha dovuto presentare. Gli altri servizi, come gli servizi per l'igiene personale, sono invece servizi che hanno mantenuto i livelli standard, comunque registrando sempre dei valori al top. Di che numeri stiamo parlando? La Mensa nel 2014 ha registrato una media giornaliera di 2800 passaggi, mentre invece i servizi di igiene personale sono di circa 260 passaggi al giorno, ai quali si aggiungono altri circa 50 passaggi quotidiani del guardaroba. È quasi passato un secolo da quando Fra Cecilio Cortinovis, affacciandosi ogni giorno alla portineria del convento dei frati Cappuccini di Viale Piave, iniziò la sua opera di carità. Oggi la Mensa è aperta sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, dalle 11.30 alle 14.30 e la sera dalle 18 alle 20.30. Grazie alla generosità di tanti benefattori e volontari è diventata una struttura ben organizzata, capace di offrire ogni giorno oltre 2700 pasti caldi. Immigrazione e disagio, impoverimento dei nuclei familiari e difficoltà degli anziani e dei pensionati soli. La povertà oggi ha i volti di tante persone diverse. Dal 2008, da quando si pone come data tradizionalmente l'inizio della crisi, gli italiani sono certamente aumentati. Chi sono questi italiani? Sono persone pensionati con un minimo di pensione, quindi che non riescono a reggere il fabbisogno familiare o personale economico. Sono padri separati che sono in difficoltà sia personali che anche nei confronti delle famiglie dalle quali appunto si sono separati. Abbiamo anche mamme sole con bambini a volte anche in tenera età oppure anche famiglie numerose dove soltanto l'impiego di una persona non può sopportare quello che è il peso economico. Certamente sono tutte povertà che derivano da problemi di disoccupazione, di emarginazione sociale, di difficoltà anche di accedere ad alcuni servizi pubblici che possono comunque in qualche modo dare una mano in questi settori.